ciao sono il dottor max benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in italia in questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano nella lista troverai i nomi delle farmacie i loro indirizzi completi i numeri di telefono e codice della farmacia al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te in questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano ad ancona in provincia di ancona nelle marche farmacia adriatica dottor cataldi via trieste 1a telefono 0 7 1 2 0 4 2 5 2 codice 8818 farmacia ancona dei dottori russi felici sordoni snc corso giovanni emendola 5c telefono 0 7 1 2 0 4 1 4 2 codice 8823 farmacia centrale dottor zerbi nicola corso mazzini 1 telefono 0 7 1 2 0 2 7 4 6 codice 8820 farmacia colle marino s as di sordoni silvia company piazza galilei 4 località colle marino telefono 0 7 1 8 8 2 2 2 1 0 codice 8841 farmacia del passetto snc viale della vittoria 73 telefono 0 7 1 3 2 3 6 6 codice 8824 farmacia del piano srl piazza ugo bassi 7b telefono 0 7 1 2 8 0 7 1 2 2 1 6 3 codice 8825 farmacia del pinocchio dottoressa cassetti via pontelungo 20 telefono 0 7 1 2 8 0 2 3 5 5 codice 8826 farmacia della ferrovia della dottoressa nargi spicconi via guglielmo marconi 213 telefono 0 7 1 4 4 9 3 7 codice 8828 farmacia delle grazie dottor ciccioli stefano il cs as via mario torresi 135 telefono 0 7 1 2 8 0 2 3 0 8 codice 8829 farmacia dell'orologio dottor ferranti piazza roma 7 telefono 0 7 1 2 0 7 4 8 0 1 codice 8830 farmacia dottoressa ottavia sciarrillo via ascoli piceno 23 telefono 0 7 1 8 9 8 0 6 1 codice 8837 farmacia famiglia flaminia sas del dottor rossi pierfrancesco e compagni via esino 16 località località torrette telefono 0 7 1 8 8 8 8 2 5 1 codice 8843 farmacia la salute via del conero 34 telefono 0 7 1 3 5 3 0 3 codice 8833 farmacia la salute di moroselli lc dispensario contrada boranica poggio 45 codice 8835 codice 8835 codice 8835 codice 8834 farmacia nazionale dottoressa per goli via marconi 131 telefono 0 7 1 2 0 4 0 4 0 0 codice 8835 codice 8835 farmacia palmieri e gaffuri snc corso garibaldi 62 telefono 0 7 1 2 0 2 7 7 1 codice 8836 farmacia farmacia posatora dei dottori dei dottori de stefano e coppare snc via ml king 9 telefono 0 7 1 4 2 2 7 6 7 codice 8821 farmacia sangas pare dottor pratichizzo via brecce bianche 68 c codice 8832 farmacia san giorgio della dottoressa giulia benvenuto via antonio giannelli 8 codice 8819 farmacia talamo ferdinando via 25 aprile 100 telefono 0 7 1 2 0 7 0 8 1 1 1 codice 8822 farmacia tomassini lauro via aspio 4 località monte sicuro telefono 0 7 1 2 9 0 6 1 4 1 codice 8832 farmacia tornatura marco orazio piazza s d'acquisto 38 telefono 0 7 1 2 8 6 6 4 3 7 codice 8838 farmacia valla paolo corso garibaldi 115 telefono 0 7 1 2 0 7 0 2 2 2 0 codice 8839 codice 8839 farmacia valemiano snc di valente d e compagni via martiri della resistenza 61 61 61 a 61 b codice 20.397 farmacia zecchini snc piazza roma 3 telefono 0 7 1 2 0 7 4 8 0 4 codice 8840 ad ancona non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità soprattutto in momenti di necessità o emergenza ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse il dottor max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno la tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura questo canale potrà esserti utile in futuro ti consiglio di iscriverti grazie ancora per l'attenzione buon proseguimento l'attenzione buon proseguimento e Grazie a tutti.